Hi ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, siamo sopra qui con Injustice Girls Among Us Ultimate Edition, non ci fermiamo mai e andiamo avanti con la battaglia, dai! Non ti preoccupare Harley Quinn, ti abbiamo subito catturato una bella bombetta e andiamo su... Non ti permetto, attenzione, cerchiamo di... Secondo me dovrebbe essere abbastanza veloce, no? Ok Ah, vieni qua, vieni, Camier, ok Bellissimo, bravo Joker Lei sembra la tipa che non si attacca, ma lui invece attacca e come? Vai, vai, porca paletta, vai Uh, uh, ok, meno mai siamo riusciti a beccarla, eh Ok, vai, una bella coltellata, una bomba Uh, che ci ha lanciato, che ci ha lanciato, affetto, affetto Ah, che peccato Bella questa mossa, bravo Joker, bravo Aspetta un po', ah, ahia, cavolo Avanti, avanti, avanti Ah, l'avevo quasi beccato Ok, ora l'ho beccato Uh, alla grande, alla grande Vai, vai Ok, un per poco, eh, ragazzi, per poco Aspetta, aspetta, ok Ah, se riuscivo a lanciare... ecco qua Ci siamo vicini No Oh, mi sa che è meglio che ti avvicini Bellissima questa mossa Attenzione, attenzione Joker Allora, vi ho detto io Attenzione Eh, ecco qua Così andiamo avanti, almeno Ahia Uh, però siamo più veloci Aspetta, ragazza Due colpi, due colpi, due colpi No, gioca, no No, ok Aspetta un po', ahia Meno male che siamo riusciti a sca... Ah, porca Ok, bello questo colpo Oh, ahia Eh, ma non è giusto così, eh Vai così Ah, ok Ma la bomba l'avevi lanciata Ma poi è rimasta lì, eh Aspetta, 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 aspetta Perché ridi? Non ti permettere Ahia Ok E andiamo Credo che tu sia morta Oh La paletta Resta a terra, ragazza Vabbè, ora c'è il livello 13 È tu La forma che ti muovete La forma che ti... Pummel? Beh, sì È il amore Tu puoi sentire il amore, certo? Mi sento... Come me stesso ancora Joker è morto, ma... Tu sei... Questo non è il mio Gotham Ma io sono il Joker, mio caro Amo il tuo Joker? Harley? Sì Pudden! Oh! Come on Ci sono alcune persone che hanno bisogno di incontri Oh, Pudden Pudden, Pudden Che corteggiamento strano, ragazza Ok, Bruce Ready for visitors? Ahi, ahi, ahi... Ah, che... Ah, che... Arkham ha mai vissuto meglio. Diori membri del Joker clan, tu sai la vera del incidente di Metropolis. Superman ha ucciso queste persone, e poi ho cercato di uccidere me! No, Joker, fai calmo! C'è ragione! Ok, mi diventa anche dolce adesso. Harley mi dice che Superman ha fatto questa pillola per i suoi uccidi. E poi i bad boys insurgenti hanno avuto alcuni. Ora abbiamo anche due! Con queste, un bus potrebbe fallere su noi, e non ci siamo fatti! C'è ragione, non ci siamo fatti! Oh! Da ora, ci sarà più che una nuova. Il bambino divino divino il bambino. Il bambino divino, un bambino. Il Joker? Un figlio! Ogni убbino? Oh! 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 Ah! Oh! Oh! Oh, che be... Che c'ho spezzato? Non credo, ragazza, eh Qua siamo carichi, siamo carichi Ah, avevo cercato di colpirlo subito all'inizio Ah, porca miseria, alle spalle non ce l'ho... Questo è forte, questo è forte Eh no, eh no, eh no Vieni qua, vieni, cambiare Ok, vieni qua Ok Porca miseria, questa... Ok Un po' di coltello, un po' di bomba, ti fa sempre co... Questa c'è un messaggio nello stomaco, eh Eh, la ragazza è abbastanza veloce No, 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 no Ok L'arma è pro... Ah, per bo... Posta, ma pensavo che l'avessimo... Boom, 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 vai, vai Bellissimo que... Ma che fatti, anche scop... No, no, gioca, non devi fare questo... Vai che dovresti essere abbastanza veloce Bellissimo Vai, avanza, avanza, avanza Dall'altra parte, dall'altra parte, vai Aspetta, la vedo abbastanza... Lo vedo abbastanza che... Aspetta... Attenzione, attenzione, attenzione Io non credo Ok, vai Ah, l'avevo quasi beccato Vieni qua, vieni Aspetta Aspetta Questa pistola non mi piace Perché questa non riesce... Oh, grande questa mossa, mi è piaciuta Aspetta Aspetta un po' Attenzione Attenzione che siamo quasi... Ok, hai visto? Ho fatto lo scherzetto Scherzetto davanti Carmi Perché la riesco a beccare? Vai così Ok Ok Resta giù Resta giù Sento sparare, quindi... Ah, è morta proprio Ok Ah, sembrava strano Ok Fai scurrire le carte Tac, 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 tac Ok Bello questo fatto del touch Oh, cavolo No, di qua, di qua, di qua, di qua Ok, ci siamo Ma non credo proprio Tac, 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 tac Ok C'è una cartina Ok Ok Alla grande Non arriverai mai da queste parti Vai, vai, vai Che ce la facciamo Cazzo Oh Non sono molto rapido, eh L'avevo detto io E disaporiti E disaporiti Non fa niente Non fa niente, vai Ok Pistolettata Ah, che bel calcetto Abbiamo imparato Mi piace questo calcetto Però In pratica Non sono riuscito Oh, cavolo Aspetta un po' Ah Aspetta Ok Ok Vai Bella questa bomba Ma porca Adesso la vedo abbastanza Ragazzi, vado in difficoltà con questo Ok Ahiaiaiaiai E avevo capito che c'avevo la carta Vai Dovremmo andare abbastanza bene Perché c'è uscita la carta Che scoppia anche tu Vai, vai, vai All'altra parte Perché se no non avanzi Vai dall'altra parte Dall'altra parte Questo c'ha praticamente Una serie di mosse A protusione Oh, percato Aspetta un po' Ok, vai Lo vedo abbastanza Lo vedo abbastanza Ah E vieni qua Ok Vai, Joker, vai Ok Aspetta, aspetta Ok Dovremmo averlo quasi Quasi morto Ok Alla grande C'ha ragione We're outnumbered Let's go Escape 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 You can turn that off now Thanks for showing up so fast, Bats Hi gang What do we do now? Anyone up for pancakes? Joker What now? Ah Why does she hate pancakes? What are you playing at, Harleen? What's he doing here? Mr. J can be a big help to us So You came along on our little field trip And I'm guessing he didn't arrive alone Where's Batman? There's one right there Your eyes Pure evil Just like his Who? Superman? His flying friends took Batman My Batman Our Batman Quiet Or I'll cuff you and leave you for the police And why did you save me from them? Ow! If Batman's been captured, we've got to bust them out To free your Batman, we need to complete our mission Ooh, I love a good mission Negative, you and your clan lay low You're a target now And you're too dangerous to run free More of them will be here soon Go, I'll catch up with you I'll catch up with you I'll catch up with you I don't like you So you found them A parallel dimension Now, how do we get there? We don't We pull them here No risk to an away team Good Still the same problem though How do we do it? With this We're gonna modify my cosmic treadmill Pull them all back at once We've got some work to do What is this? Beautiful, isn't it? The moon or its light shining off your bald head I'm pleased that you wanted to meet You're finally ready to join our little club? Oh Business is bad Being hunted is worse After so many refusal Why now? They made it personal Non credo, ragazzo Ok ragazzi, anche questa parte l'abbiamo completata Porca paletto, a che sconto Spero come stanno per questo video vi saluto, mi chiedete sempre di commentare se vi mette di piacere No, ci vediamo al prossimo video e bye bye